Benvenuta nel mio centro operativo mobile, Ferre! Oh, ma che bello! Ti piace? Allora, abbiamo un'officina per modificare i miei super bellissimi veicoli, ok? Ok! E infine Bob! Ok! Lui è Bob! Lui è Bob e sistema le mie armi, ok? Ok! E quest'oggi, io e Bob, ti vogliamo presentare la nuova arma più forte del gioco, Ferre! Ok, ok! Tu magari non ci chiedi se io... Eh, dico dai! Ma che cosa sarà mai? Esatto, esatto! È un fucile da cechino, che ti permette di vedere le persone attraverso i muri... Ok! ...e che quando spara, fa delle esplosioni! Non ci credo! Ferre, ti... È troppo, non ci credo! Ti giuro che esiste e che ce l'ho, Ferre! E che quest'oggi lo proveremo nel peggio modi! E ragazzi, come va? Io sono Ferre Niki! E sono Steph! E che stagione che è Maggi ti ha 5 e... E oggi siamo qui per provare l'arma che, a detta di Steph, è quella che è la più forte del gioco! Cosa vuol dire a detta di Steph? A detta di Steph! Perchè ancora non abbiamo testato e appurato che sia realmente l'arma più forte del gioco! Allora... Giusto? Allora, prima di tutto, guarda un attimino che cos'è questa meraviglia! È bellissimo! Fucile da cechino! Lo voglio anche io! Perchè io non ho questo fucile da cechino! Allora, guarda, ti mostro subito un'altra arma! Guarda cosa ti succede, eh! È giusto questa, ti piace il colore? Molto bella, Ferre, grazie! Però, guarda cosa ti succede con quest'arma! Ok? No! Allora, aspetta! Ti spazzo... Eeeh, calmiamoci qui! Siamo qui perché? Perché teoricamente da questa visuale la pulizia ci dovrebbe dare un po' meno fastidio e quindi possiamo testare l'arma in diversi modi! Allora, ti prego di mettere il mio schermo, grazie, perché in questo modo potrei vedere la piena efficacia! Tu dici, Steph, ma perché dici che è l'arma più forte del gioco? Esatto, esatto! Ok, ho un visore termico! Ok! Lo posso disattivare e attivare quando e come voglio! Quando l'attivo, guarda! È anche divertente, vedi? Ha tutto! È cattivo, ma è divertente! Quindi è l'arma perfetta! Guarda che bellini! Se ne vanno lì in giro, non sanno cosa gli può succedere! E noi li possiamo guardare! Però lo possiamo anche disattivare per vedere, ad esempio, un'auto! Perché è l'arma più forte! Boom! Ok, adesso fare al mio interesse e credo anche voi, Consolini! Quindi, ora che tutti voi mi state ascoltando, vi spiegherò perché è l'arma più forte del gioco! Abbiamo 40 proiettili, perché ha dei caricatori limitati, ma abbiamo il visore termico per vedere attraverso i muri! Quindi noi possiamo sapere quando un player è pronto a passare, ad esempio, attraverso questa aiuola! Quindi noi facciamo così, lo vediamo passare e siamo pronti a spararlo! I nostri colpi sono esplosivi, quindi possono far esplodere un veicolo con un solo colpo, possono far esplodere una persona con un solo colpo e possono anche, teoricamente, ad esempio, noi facciamo così, noi sappiamo che lei sta andando qua, se noi spariamo qua, lei esplode! Quindi se uno sta leggermente dietro un muro e spariamo, lo possiamo colpire! E ti stavo per dire, mi è venuta in mente una cosa che ti devo dire subito, solo che me la dimentico! Se tipo io entro, cosa ne so, dentro la mia casa, tu mi vedi col visore termico? Non lo so, Fere! Tipo nella mia proprietà, oppure dentro un negozio? Dentro un negozio penso di sì, dentro la tua proprietà non credo, però stai distraendo i consolini dalla magnificenza! Ma lo stiamo in mente, ok, vai, continua! Quindi, allora, sappiamo di poter vedere le persone attraverso il muro, sappiamo di poterle far esplodere anche senza colpirle perfettamente, Sappiamo di poter far esplodere un veicolo dove ci sono appunto delle persone, mettiamola alla prova sulla polizia! Mi sembra la cosa più giusta, quindi, oh, c'è una macchina della polizia! Non c'è più! Comunque devo dire una cosa! Dimmi, Fere! Questo è il fucile da cecchino perfetto per le persone scarse a cecchinare come me! È vero! Perché anche se non sei mirato, tu uccidi! Hai ragione! Hanno inventato l'arma perfetta! Normalmente devi stare lì, concentrato a sparare attraverso il finestrino qua! Sudando, capito! E invece così puoi anche sbagliare che fai esplodere tutto! Ciao, polizia! Ottimo! Dove sono gli altri? Allora, aspetta! E tu dirai, ok, Steph! Ok, sì, stai facendo esplodere tutto! Vedi attraverso, amanti, esplodi veicoli, tutto quello che vuoi, Steph! Non è male! Però, non ci siamo ancora! E quindi, Fere, io qua ti voglio far vedere una cosa! Ok? 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 Anche gli elicotteri, Fere! Eh, quello l'ho visto! Però voglio vedere qualcosa di diverso adesso! Cioè, ho visto che fai esplodere tutto! Però cos'altro mi puoi offrire? Cos'altro ti dovrei offrire, Fere? Qualcosa in più, dai! Tipo che cosa? Non lo so! Tipo, quanto lontano puoi sparare? Oh, beh! Testiamo anche la sua reale efficacia! Allora, no, aspetta! Facciamo così! Ok? Ok! Siamo a quattro steline! Riesco ad arrivare a cinque stelle stando semplicemente fermo in un palazzo? Ok? Uh, bello! Che non è banale! Bello! Noi a cinque stelle ci arriviamo con difficoltà e con grande tattica! Molta difficoltà! Molta! Se con un fucile a cecchino riesce ad arrivarci stando tranquillo in un palazzo, direi che è un altro punto in più per il fucile! Quindi vediamo se ci riusciamo! Dopodiché andiamo a testare quello che tu mi hai chiesto! Ok? Ok! Comunque, due colpi per un elicottero, invece che un solo colpo! Aia! Aia! Attenzione, attenzione, attenzione! Da dove? Eh, un altro elicottero di fronte dovresti avere! No! Non sto capendo! Ma ti darà mano! Mi stanno mettendo in difficoltà, sono a basso di vita in questo momento! O vuoi fare tutto da solo? No, Fede, voglio fare da solo! Fare tutto da solo, ok! Sì, sì, sì! Allora, però sta arrivando un nuovo elicottero! Ho sprecato un sacco di colpi, Fede! Allora, direi che trovare... Cioè, riuscire a raggiungere cinque strane di polizia solo se sei ben riparato! Perché così è davvero complicato, è davvero complicato! Ti sei arrivato un po' male! Eh sì, io speravo ce la facessi! Sì, anche io! C'era, era un momento bello! Dicavo che ha aperto il palazzo, però lì era abbastanza riparato, sì, boh! Due colpi e ammazza un elicottero! Un colpo ammazza qualsiasi macchina della polizia! Puoi ammazzare le persone, puoi vedere attraverso i muri, è fantastico! Adesso te stia... Ma, scusate! Esattamente che cosa ha fatto di male, secondo voi? È respirato! Non posso più respirare? Cioè, perché ce l'ha... Dite, ditemelo! Oppure non posso possedere l'arma più forte del gioco, anche se non la utilizzo? È illegale quello? Fatemi capire! Può essere, può essere! Mi hanno fatto arrabbiare, Fede! Allora... L'ho notato! Allora, guarda, dopo ti faccio fare una cosa cattiva! Ok! Però per adesso restiamo qua! E quello che vogliamo testare adesso, quindi, è quanto lontano può sparare! Sì! Ok! Allora, ho in mente un modo per testarlo! Quindi, vieni dove sono io! Sì, aspetta che arrivo! Ho bisogno della tua supervisione! Ricambio schermo e arrivo! Va benissimo! Credo che la polizia ci darà tanti fastidi durante questo test! Però possiamo scoprire esattamente fino a che distanza io posso sparare con questo fucile da cechino! Sei morta, Fede! 163 metri! Proprio precisi, precisi! Vediamo se può colpire a questa distanza! Quindi, mettiamo il nostro bellissimo fucile da cechino! Guarda che qui me lo godo col tuo schermo, eh! Vediamo! Fede! Ah, ok! Ti vedo, ti vedo! Vado? Vai! Sì che mi prendi così! Eh sì! Eh sì! Eh sì che mi prendi! Ok! Devi andare molto più lontano! Molto più lontano! È stato quasi facile! Però subito una stellina di polizia! Allora, mentre ti vengo a recuperare, sei praticamente il nostro manichino! Per testare le distanze, chiamo anche l'Esther in modo tale da sbarazzarmi dalla polizia! Questo è difficile! È 305 metri, Fede! Abbiamo esagerato, vai! Eh, credo di sì! Allora, non so se ci posso arrivare! Vediamo se almeno ti vedo! Sì, sei lì in fondo, vedi? Credo di essere io! Sei quella lì! Sì 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 sì! Niente mi riconosco da qui! Allora, proviamo a spararti! Vediamo, eh! Ti ho mancato! Quindi c'è della difficoltà quantomeno nel colpire! Eh, mi prendi! Mi prendi! Mi prendi! Aspetta! Aspetta, aspetta! Torna semplicemente in vita e rimettiti più o meno in quella stessa zona! Però fai veloce, fai veloce! Perché in effetti... Eh, non so dove sono! Dimmi quando ci sei! Quasi! Veloce che sta arrivando la polizia per me! Quasi, quasi, quasi! Veloce, Fede! Adesso, 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 vai! Ok, metti il mio schermo! Ok! Vai! Guarda qual è il miso termico, Fede! Eh, vabbè! Queste sono tutte le persone in macchina! Ma quella lì, lì in fondo... Sei io! Sei tu! E quindi io miro così... Ti prendo e ti ammazzo! Fortissima! L'aroma più forte da gioco! Te l'ho detto, qua anche gli scarsi come me riuscirebbero a prendere chiunque, quindi davvero... Fortissima! Non c'è altro dire, Consolini! Fortissima! Non c'è altro dire! So che c'è il minican che fa di tutto, distrugge tutto, eccetera, eccetera, ma è ingombrante, ti permette di sparare a una buona distanza, ma non a questa distanza, e per distruggere un veicolo, comunque, devi stare lì a sparare un po'. Qui, un solo colpo. Secondo me, si potrebbe fare anche una sfida challenge, una comparativa tra le due armi. Sì, a voi! Sarei davvero curioso di vedere quale è davvero la più forte, però di sicuro quest'arma è favolosa. Bene! Dimmi! Mi piace il mio centro operativo mobile? Sì! E a tema con una cosa, vediamo se ti ricordi con che cosa? Ovviamente con la tua moto volante! Esatto! Sei stratamarro! Sei stratamarro! Grazie, Fede, grazie! Guarda, quasi quasi ti stai avvicinando al mio livello di tamarraggio, anche se quello non è proprio arrivabile facilmente! Sei più forte di me, in quello sei più forte di me, non c'è dubbio! Ne vado molto piena, ne vado molto piena! Allora, adesso, qua ci siamo distruggiti un timino, ma ti voglio chiedere, ok, abbiamo provato la distanza, abbiamo provato la potenza, abbiamo provato la visuale, abbiamo provato qualsiasi cosa mi viene in mente! Ok! Sì! Può fare esplodere un carro armato? Non lo so, non lo so, perché il carro armato è davvero resistente, quindi bella domanda, bella domanda! No, guardalo, che bello, mi sei mancato, bellissimo! Da cos'è che non andavamo nel nostro carro armato? No, tantissimo! Frena, che voglio andare! Vai a fare il suolo l'onore di salirci, guarda! Che bello, sono strafelice! Ah, però prima devo entrare nel mio furgoncino a ricomprarmi le munizioni, perché ne ho solo cinque, e personalmente non credo che basteranno col carro armato! No, assolutamente! Non ci voglio proprio chiedere, chiedere? Credere! Che possono bastare cinque colpi di un fucile da cechino! Quindi vediamo un pochettino di ricomprare tutte le munizioni! Ah, comunque esteticamente è così, guarda, perché in effetti tu lo vedi un po' da lontano, ma è così, secondo me è bellissimo! Hanno messo anche queste, le livree, le livree per decorarli sono davvero belle, e anche le colorazioni nuove sono fantastiche! Piano piano ne sto sbloccando anche tante altre che sono super belle! Devo fare una cosa! Allora, dimmi Fere! Parare un po' in giro! Dai, non far arrivare la polizia! Un pochino dimmi, ma non arriva nessuno! Dimmi che non sta arrivando! No, non sta arrivando! Non hai stelline? No! Giuri in giurello? Sì, ti faccio esplodere a te e vediamo se arriva adesso la polizia! Allora, sei pronta Fere? Sì! Allora! Ma poi in effetti perché devo stare? Guarda, ti vedo pure! Ma come? Mi vedi davvero? Sì! Non ci credo! Allora! Fantastico! Contiamo insieme, eh! Ok! Per intanto voglio provare a spararti esattamente in testa e vedere se ha delle conseguenze! Non credo! Uno! Ok, no! Ovviamente no! Due! Tre! Quattro! Cinque! Stai ricaricando! Cinque! Sei! Eh, vedi! Otto! Ricarichiamo di nuovo! Vedi però che resistenza! Nove! Dieci! Dieci esatti! Dieci esatti! E sono tanti, eh! Sono tanti! Anche se poi c'è da dire che il carro armato non è che vada così veloce! Allora! Qui diciamo che è facile prenderlo dieci volte! Voglio dire anche un'altra cosa! Se sei ben appostato! Se io metto, chiamo Lester, mi nascondo dai radar! Ok, e quindi sono nascosto dai radar e i player non possono sapere dove sono! Sto in un palazzo alto e c'è un carro armato! Il carro armato in nessun modo riesce a capire dove mi trovo! E dieci colpi, considerando quanto è lento, sono fattibilissimi! Esatto! Quindi lo puoi distrugere! Capite? Perché con lanciamissili sono qualche colpo in meno, ma devo stargli abbastanza vicino! Mi becca nel mentre! E certo! Con il cechino, secondo me no! Quindi è davvero una figata! Mi piace proprio tanto, Fere! Da defilo da torcere anche il carro armato! Che diciamo che non è una cosa da poco! Perché comunque abbiamo già appurato nei vari tipi of fare che il carro armato è parecchio forte! Esatto! Parecchio potente! Quindi diciamo che non è semplice tenergli testa! Sono felice! È bello! Quando GTA mi mette nuove armi da provare, io sono felice! Più che dei veicoli! Perché le armi sono più belle! Capito? Vuoi fare un'ultima cosa? Sì! Sono felicissima! Andiamo un po' in giro col centro pativo mobile e con le torrette e facciamo il caos! Sì! Ok! Poi sarei tu le torrette! Ovviamente! Ma che domande! Sono nata per questo momento! Ma dai! Su! Forza, Fere! Apri! Non si apre! Ma andiamo a caccio! Fere, ma smettila! Smettila, Fere! Non si apre! Devi apri! Sì! Fere, volevo solo darti un pugno! Non mi ero accorto di avere la pistola! Chiedo un minuto e perdono! Fere, ti prego! Come sei! Ti prego! Fere, chiedo perdono! Pensavo di essere coi pugni! Fere, scusami! Ti prego! Dai! Che perdonami! Allora, faccio esplodere te! Ho il centro operativo! Cosa scegli? Eccomi! Cosa scegli? Sono qua! Forzati che se no esplode! Ok! Ma che arma hai esattamente in questo momento? Lancia missili! Fere! Allora, no, ti risposto è perché mi mira! Solo quella c'è dentro! Non è l'arma adatta per uccidermi, Fere! Mi interessa! Sta facendo arrabbiare! Fere! Steph! Aspetta! Mi sta facendo molto arrabbiare! Ecco qua! Non ti ha preso? Davvero? Perché non ti ha preso? Perché c'è la rete davanti a me, Fere! Una rete non ti può proteggere, però non ha senso! Mettiti dritto! Ci stai mettendo! No, un po' troppo! Perché mi... Continuo a mirare quei... L'accidente di veicolo tuo, dai! Saliamo! Non ti piega la Ferenichi di una volta! In ogni caso, dai, io direi che ci possiamo fermare così per questo video! Speriamo che vi sia piaciuto questo video dove provavamo appunto il fucile da cechino, ovvero l'arma più forte del gioco! Io continuerò a chiamarla così! So che nei commenti alcuni scriveranno che ce ne sono altre! Ma secondo me, sono davvero convinto che è la più forte! Perlomeno, se non lo è in tutte le situazioni, in diverse situazioni, quella può essere l'arma migliore da utilizzare! Anche secondo me! Di conseguenza, è davvero davvero forte! Speriamo che il video vi sia piaciuto! Tanti commenti e tanti like se appunto vi è piaciuto! E ci fermiamo così! Verrà che se vi riesci a diseggiare il video, sentite un bel like! Questa è la prima volta che avete tutto il nostro video e potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri pisioni! Ciao e alla prossima! Ciao ciao! Ciao ciao! Grazie per la visione!